C'è poi non puoi capire cosa è successo oggi a scuola, ti ricordi Filippo? Eh? Eh voleva fare la show, ma sai cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ho preso una sedia che era scoppiata in testa alla professoressa, ma davvero? Sì sì veramente, non puoi capire quanto stavo ridendo, noi tutti ridendo, un casino, poi la cosa bella è che non lo sa che è Filippo, come non lo sa? No non lo sa, infatti ci devono sospendere a tutti, vieni qua brutto figlio di merda!